Due grandi novità per quanto riguarda la città di Grosseto, l'ex Garibaldi che diventerà la casa della cultura, la casa della musica, delle associazioni e l'assegnazione del bando per quanto riguarda la gestione della Sala Eden, del Bastione del Cinghialino e dello Chalet. Un bando in cui non si è privilegiato l'aspetto economico ma soprattutto l'aspetto progettuale. Abbiamo veramente ottenuto due grandissimi risultati proprio in questi giorni, sono molto soddisfatto, ringrazio tutta la mia giunta, gli assessori che si sono prodigati siamo riusciti appunto ad affidare ad un'azienda locale estremamente solida, consistente dell'imprenditore Terrosi, la Sala Eden, il Cinghialino, lo Chalet quindi creando anche un progetto di continuità e di rivitalizzazione e di riqualificazione della nostra città muraria sicuramente ci saranno delle grandi soddisfazioni. Stavamo lavorando a questa cosa da tempo, c'erano delle questioni giudiziarie che avevano rallentato i lavori ma era una delle nostre priorità della nostra mission elettorale quindi l'Eden sarà di nuovo fruibile e veramente sarà una cosa meravigliosa anche per il nostro centro storico. Per quanto riguarda invece la questione del Garibaldi, ricordo ancora quando ero presidente della Grosseto Fiere e avevo la sede proprio vicina, rimasi subito colpito da questo bellissimo stabile, da questo ex orfanotrofio che però cadeva in faticenza, in obsolescenza e necessitava già allora di riqualificazione e anche questo è stata una delle prime cose che ho inserito nel programma elettorale e adesso possiamo dare l'inizio ai lavori, sempre grazie ad un lavoro di team, di squadra potremo riqualificare questo building e dargli anche una vitalità dal punto di vista sociale ospiterà infatti la Casa della Musica ma ci saranno anche tante altre sorprese.